300 carabinieri e 108 mezzi dell'arma territoriale coadiuvati da personale della compagnia intervento operativo del 12esimo battaglione carabinieri Sicilia di Palermo controlleranno il territorio in occasione del Ponte dei Morti. In servizio carabinieri di quartiere e pattuglie a piedi nei punti di ritrovo più affollati, pattuglie in frazione e contrade di comuni della provincia, pattuglie in abiti civili per contrastare truffe, scippi e rapine, servizi aerei con gli elicotteri dell'arma che vigileranno dall'alto le arterie principali e secondarie della provincia, monitorando il flusso delle auto. Per la prima volta quest'anno verranno utilizzate anche pattuglie di carabinieri nei pressi di cimiteri e luoghi di culto. Per due giorni in città scatterà una rivoluzione del traffico attorno ai quattro cimiteri. Domani e venerdì dalle 7 alle 17 saranno istituiti i sensi unici in 14 strade, mentre Piazza Sant'Orsola sarà completamente chiusa alle auto, tranne quelle dei disabili. L'AMAT potenzierà il servizio delle linee dirette ai cimiteri. Anche Trenitalia ha potenziato le corse per raggiungere il cimitero di Sant'Orsola, con 19 collegamenti straordinari che serviranno alla fermata Vespri. Rotoli, Cappuccini e Santa Maria di Gesù domani e venerdì e sabato saranno aperti ininterrottamente dalle 7 alle 18, il 4 novembre dalle 7 e 30 alle 14. Sant'Orsola funzionerà tutti i giorni da giovedì all'11 novembre dalle 7 e 30 alle 16 e 30. Oggi tutti i cimiteri resteranno chiusi per i lavori di pulizia. I negozi invece resteranno aperti domani e venerdì, domenica saranno chiusi.